apriamo un'altra stagione speriamo ovviamente evidentemente di divertirci quindi vorrei subito qui con me il presidente della Lega Basket Valentino Renzi e il presidente della Feder Basket Gianni Peducci buongiorno ci siamo lasciati con un playoff veramente interessante con una grandissima presenza di pubblico con un'audienza televisiva che non ricordavamo da anni e quindi questi sono tutti presupposti positivi l'estate ci ha messo in mezzo questi campionati europei che comunque hanno dato un buon risultato al di là per il ramarico magari della qualificazione al campionato del mondo ma comunque voglio dire bisogna ricordare come si è partito tutte le vicissitudini ma non posso che essere d'accordo con quello che dice Valentino Renzi e tutto voglio fare i complimenti a lui e ringraziare tutti i presidenti di società per quello che hanno fatto e stanno facendo con la Palacanestro e in particolare per la Nazionale è stato il tuo giocatore no fino a Andres Vita adesso torna con la maglia di Venezia e questa sera è un po' sottovalutati quest'anno qual è il tuo gioco per il tuo team? non è vero 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 se volete inizio le più partite possibile è chiaro che ho fatto finta di non sapere che loro erano tra le squadre che partono magari che cosa facciamo non possono essere sorpresi quindi io vorrei vincere tutte le partite Do you think it's better Thomas or White about the dunker men? Come schiacciatori, come si chiama Thomas o White? Dunker? I played with Omar last year in Russia. Never dunker, io ho giocato insieme a Thomas l'anno scorso in Russia e non l'ha mai schiacciato. Nothing, he can't dunk. Flight, he's the better dunker. Vogliamo riuscire a trovare un grande equilibrio con una squadra nuova ma che ci potrà dare grandi soddisfazioni. Il trasferimento live delle immagini delle partite che poi sono girate alle emittente televisive ufficiali del club. Questo tutto avviene in tempo reale. Operato alla Lega, grazie a Fastweb, può anche distribuire le dirette degli incontri all'estero, può sprodurre video, gli highlights proprio a tutte le principali emittente televisive. Quindi salutiamo anche l'ingresso di Fastweb che è il nuovo partner tecnologico della Lega. Grazie a tutti. Grazie a tutti.